Ho partecipato alle Olimpiadi che sono un momento non soltanto sportivo ma anche sociale perché tantissimi popoli hanno la possibilità di incontrarsi e di vivere e di condividere una grande emozione però non è soltanto questo il modo perché c'è anche l'opportunità di farlo attraverso la Corsa per la Pace che si terrà in terra santa. Io corro e tu?